Allora, secondo me, siccome già ci conosciamo, non voglio partire già avvantaggiato, però siamo un po', non dico favoriti, però è già un passo avanti, conoscersi tutti, perché prima di tutto di fare una squadra e fare lo spogliatoio, poi la squadra e poi le partite. Siccome già siamo squadra, siamo già spogliatoio, secondo me possiamo arrivare lontani quest'anno. Concordo e aggiungo che come obiettivo, sbilanciandomi, al primo anno possiamo arrivare tranquillamente ai play-off. Condividiamo, ma ci proveremo da subito. Io ho visto il gruppo, sembrano tutti i giocatori che, anche se non hanno fatto la categoria, hanno tanta voglia di fare, quindi è già un passo bello, perché quando è la voglia, la categoria non cambia niente, poi l'importante è avere voglia di vincere e di scendere in campo. Tante mezzo. Esattamente, esattamente. Esatto. E la nostra inesperienza può essere un valore aggiunto. Per giocare sui spensierati. Per giocare sui spensierati e senza timore di nessuno. Testa libera. Con l'amicizia. Esattamente. Con la voglia. Con la voglia. Esatto. Con la voglia. Grazie a tutti.